Buongiorno a tutti, oggi è martedì 3 dicembre, leggiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 21-24. In quel tempo Gesù esultò nello Spirito Santo e disse, io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il padre, né chi è il padre se non il figlio e colui a quale il figlio lo voglia rivelare. E volgendosi ai discepoli in disparte disse, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete ma non lo videro e udire ciò che voi udite ma non lo udirono. Ecco oggi il testo del Vangelo ci rivela il senso della gioia del cuore di Gesù mentre ascolta l'esperienza dei discepoli e delle discepoli che erano appena tornati dalla missione. Infatti questo Vangelo fa onore al Santo che la oggi ci vuole far ricordare. San Francesco Saverio, patrono dei missionari, grande uomo di missione, gesuita. Cosa ha spinto Francesco Saverio a uscire fuori dalla sua terra, ad avventurarsi in un altro mondo? Eh sì, perché al suo tempo i missionari erano davvero degli esploratori avventurati in terre sconosciute. E allora veramente ci troviamo di fronte a questo grande uomo. Cosa ha spinto questo uomo Francesco Saverio a donarsi fino alla fine? Di lui si dice che avesse battezzato folle di persone in terre di missione. Per di più si dice che sia morto sfinito, stremato, donando tutto delle sue forze. Quest'uomo era davvero innamorato di Gesù, era veramente appassionato dell'annuncio del Vangelo, era appassionato dell'umanità e soprattutto quella che ancora non conosceva l'amore di Dio. E allora ecco che oggi il suo esempio non può che donarci o comunicarci almeno un pizzico di quello Spirito Santo che ha riempito di gioia il cuore di Gesù in quel giorno, quando ha visto che i suoi piccoli, cioè i 72 discepoli che lui aveva inviato, ritornavano dalla missione pieni di gioia. Sì, tanto sacrificio, ma tanta gioia. E anche oggi Gesù desidera farci vivere questa gioia propria del Regno di Dio che si diffonde nel mondo anche attraverso la nostra piccolezza. Chiediamo allora lo Spirito Santo perché possiamo sentirci spinti verso l'ignoto come San Francesco Saverio nella fiducia perché anche io e te possiamo oggi vivere questa gioia, la gioia di illuminare il mondo con la luce del Vangelo di Cristo, con l'annuncio della sua risurrezione. Preghiamo in particolare per tutti i missionari e le missionarie che offrono la vita in terre anche pericolose oggi per i cristiani. Il Signore doni loro la gioia del prezioso dono che scelgono di fare per amore, non solo dei più lontani tra i popoli, ma anche di tutti noi. Buona giornata.